Perché da qui a due anni voi siete semplicemente falliti. Io al mio evento di Londra, che è stato un record assoluto, ho viaggiato con l'aereo privato. Tu non puoi dire, ah, Big Luke ha si inventato di viaggiare con l'aereo privato. Alcuni degli attacchi che vi dicevo sono ridicoli. Pensate alle soluzioni, se no la piscina privata non la prenderete. Andate a lavorare. Signori, a Proof in Quatery, il papi di una volta è tornato. Lui è il consulente marketing più pagato al mondo, riconosciuto come il creatore di milionari e il punto di riferimento mondiale per chiunque voglia generare profitto. È partito stravolgendo le sorti di decine di migliaia di imprenditori con le live in piscina nel 2018. Piscina riscaldata. E adesso, quelle stesse live, che da anni non erano più accessibili al pubblico, sono tornate grazie ad un nuovo ed epico format da Unicode. Piscine e Verdoni. Ogni settimana puoi riascoltare le verità assolute del papi che hanno fatto la fortuna di chi li ha applicate e che a tutt'oggi possono rivoluzionare qualsiasi business in qualunque settore. Big Luca da Dubai, dalla sua piscina. Ma adesso accendi il cervellino e vedi di concentrarti su quello che stai per ascoltare. Eccoci qui, signori Big Luca, da Dubai, dalla sua stabile magione di residenze, Emirati Arabi Uniti. Scusate, sto coprendo delle cose iper riservate che non dovete assolutamente vedere. Vediamo se ci riusciamo a non fare la figura dei fessacchiotti. È come se già non la facessimo abbastanza spesso. Appropinquatevi, signori. Venite a me. Si vede, non si vede, non si vede. Quello che non si deve vedere. Ottimo e perfetto. Appropinquatevi, signori. Oggi vi spiego una roba interessante che è l'ordine di apprendimento dell'online marketing. Cosa imparare, skills necessarie, cose più importanti, eccetera. E chiaramente, siccome qualche giorno che non mi faccio un bagnetto, anche perché abbiamo avuto temperature polari qua a Dubai, me lo farò adesso, con vostro permesso. La piscina dovrebbe aver raggiunto livelli umani. Sì, sono 31 gradi. Urca! Sono appena fatto un frullatino. Urca! Oh, eccolo lì! Eccoci qua, signori. Piscina privata, tutto a posto, perché altrimenti non possiamo far finta e non possiamo essere dei cassoni in piscina. Quindi, appropinquatevi, signori. Oggi si studia un po'. Live un po' tecnico. Cioè, tecnico, mentale, teorico, tutti quegli attributi lì che a voi piacciono, che non vogliono dire niente. Fatemi sistemare le cosine qua, signori. Appropinquatevi verso la luce, la speranza, la conoscenza. Ciao a tutti. Tutto bene, signori? In questi giorni siamo occupati a risolvere determinate situazioni, a pianificarne altre, a lavorare, a produrre contenuto. Ben affedito di fare dei PowerPoint interessantissimi. Per voi, lucratori, professionisti o aspiranti tali, gente che vuole del contenuto, vuole continuare a studiare. Per voi, invece, che sapete già tutto, potete andare presso altri. Lidi, è bene. Bene, signori. Allora, come si studia l'online marketing? Cose da imparare? Allora, ci sono una serie di robe da capire quando voi volete imparare a fare marketing online e a fare business online e a fare info business. Voi mettete, ovviamente, tutte queste cose qui come se fossero uguali. È già spiegato che non lo sono, ma le mettiamo tutte insieme per facilità. Allora, abbiamo già spiegato, e qui mi ripeto, ma purtroppo non l'avete capito, che dovete finirla di studiare in modo settoriale. Ok? Quindi, se studiate le robe una per uno, senza capire l'insieme, soprattutto all'inizio, voi non ci capirete assolutamente niente. Questo è il motivo per cui, all'inizio, voi non dovete fare un corso di Facebook Ads, non dovete fare un corso di copy, non dovete fare un corso di chissà cos'altro. dovete studiare il marketing online e offline nel suo insieme e nella sua di chiarezza. Ci sono però delle cose che sono più importanti. Quindi adesso le diciamo in ordine sparso, no? Quindi, se in qualche modo avete delle mire espansionistiche e dite, io voglio migliorare il mio tenore di vita, io voglio fare il plin-plin, io voglio essere ricco a Dubai con la piscina, la casa, la penthouse, il jet privato, tutte queste altre, c'è la tronate qui, ok? Più o meno godibili, secondo me molto godibili, ma lì il dibattito è aperto. Dovete imparare a fare delle cose. Prima di tutto, dovete capire che, allora, diciamone subito una che mi sta venendo in mente che è molto importante. Prima di tutto dovete imparare a vendere. Quindi dovete imparare a convertire le persone in poco tempo, catturare l'attenzione ed esprimere il valore di quello che vendete in relativamente poco tempo. Uno dei problemi che hanno le persone che per esempio producono contenuto, fanno video, eccetera, è che non arrivano mai alla fase di pitch e non si capisce mai perché una persona dovrebbe imparare da loro. Se poi avete un paradigma negativo, che è la seconda parte, sul denaro, sul prendere soldi, eccetera, il tutto si trasforma in una situazione assolutamente imbarazzante, dove voi cercate di fare un downsell e cominciate a rispondere a obiezioni che non sono mai state fatte e se vendete un prodotto vi sforzate di dire che c'è lo sconto piuttosto che il valore di qua e quindi la mettete più sull'oggettività e la logica del valore che sull'emozionalità e sull'arrivare al cuore dei vostri prospect, ok? Se io la mettessi solo logicamente, ovviamente poi ci deve essere anche un approccio logico, se fate una sales page magari la lista dei moduli e dei benefici la dovete mettere, ma il fatto è non fare solo quello. È una cosa che fa breccio, è uno dei motivi per cui io faccio anche i video dalla piscina, potrei non farli, però sicuramente il fatto di far vedere anche un certo stile di vita, considerando il fatto che molti fanno business in realtà per quello, ok? Non fanno business ragazzi per lasciare i soldi in azienda, stare dieci anni a fare i poveri per poi giustificarsi, quello è il perché i soldi non ce li hanno, non sono i produttori seri, ok? Fanno, studiano, ok, da me, anche per lo stile di vita è giusto mandare un messaggio, ok, che travalichi la logica e arrivi un attimo al cuore. Quindi quando voi fate dei video, fate degli ads, ci sono delle tragedie, per esempio gli ads di YouTube dove avete 5 secondi in realtà per accaparrarvi l'attenzione, in quei 5 secondi voi dovete già in qualche modo vendervi. Quindi se voi cominciate a fare video solo professionali o solo meramente informativi, ricordiamo che il marketing educativo ha una componente che ho già spiegato in quella che io chiamo guerra psicologica e o manipolazione mentale. Ci sono tutta una serie di paradigmi, di obiezioni, di cose da considerare quando si parla, ci saranno novità in merito a questo a breve. Bene, per chi ha fatto guerra psicologica, per esempio, il corso mio che insegna come diventare dei consulenti altamente pagati e chiedere anche più di 1000 euro all'ora, un corso che ha avuto un successo incredibile, che è adatto a chiunque venda informazioni in realtà o chi faccia info first, ma il modo in cui l'ho posizionato è per i consulenti. Sa benissimo che c'è, oltre alla logica e oltre al valore, Giuseppe Ostuni, ma siete ancora in barca? Guarda che io ho il video dove mi ringrazio che ho pagato lo yacht e lo metto in pagina. Oggi i miei amici, il mio regale, sono andati in yacht e con il cappellino è tutto black, una soddisfazione tremenda. Comunque ci sono le foto di personaggi, ho lanciato troppo un brand, per lì che non sto monetizzando con il cappellino è tutto black, arrivano foto, eccetera, persone che aspettano da Starbucks con la schitta è tutto black, è una doduria. Bravi, bravi. Quindi, voi dovete capire come arrivare alla parte di pitch e di vendita e di scambio di valore per soldi immediatamente, ok? Il più breve tempo possibile. Una delle cose è che le persone atterrano sulla vostra sales, sui vostri video e non capiscono il perché dovrebbero imparare da voi. Quindi, anche se voi lo dite logicamente, avete una lista, dovete comunque arrivare alla vendita emozionale nel più breve tempo possibile. Stiamo aspettando che vieni a scaldare, saldare, sì, 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 lo so, lo so Luigi, stiamo intervenendo ma non c'è problema, non vi fate il sangue amaro tanto rimangono poveri. Ok, quindi questo è uno dei primi problemi. Il secondo problema è l'avere una prospettiva di corto termine che non va bene versus quella di lungo termine. Allora, si crea un paradosso, voi dovete chiaramente avere una mentalità di lungo termine nel momento in cui fate una qualunque azione di marketing. Per esempio, lo spammare una lista vi permette magari di monetizzare nel corto periodo ma poi questa lista si brucia e dovete continuare a acquisire i leads, specialmente i leads che avete già acquisito per tentare di riscaldare un'altra lista o riscaldare le persone in un modo diverso per poi rivenderli un po' più nel lungo termine. Quindi per questo è comune nei lanci in America per chi non sa come funziona un ambiente dal quale sono uscito subito è quello dei lanci modello JVSU. Ci sono marketers famosi che ancora fanno queste cose qua come per esempio il celeberrimo Anixingal che è stato uno dei miei istruttori o Jimmy Kim ok, persone che magari voi non conoscete ma sono molto molto conosciuti nel panorama americano e che cosa fanno queste persone? Fanno ancora in realtà il pannellino quello dei prodottini così infatti guadagnano un cazzo è un barattolo devono fare un lancio praticamente ormai alla settimana e quello che succede è che ci sono gli affiliati su JVSU che si chiama Tu Reciprocate ok, quindi mando un'email alla mia lista con il tuo link di affiliazione e tu prometti di fare lo stesso e praticamente ogni giorno bombardano la lista con 5 differenti offerte hanno un prodotto che è in fase di lancio e quindi sono richiesti due mail al giorno che sono scritte tutti uguali perché la persona che fa il corso fornisce il materiale didattico è vero queste persone poi ce n'è un altro che te l'aveva chiesto insomma continuano a spammare la lista e quindi quello che succede è che all'inizio del lancio loro guadagnano tanto con la loro prima lista diciamo la bruciano e poi è una fatica della madonna tirarci fuori i soldi gli bisognerebbe avere una prospettiva di lungo termine vedo però a volte alcune persone avere una prospettiva troppo di lungo termine uno dei problemi che avete all'inizio che dovete monetizzare subito quindi uno dei modi per farlo all'inizio anche se voi non lo volete fare è scambiare il proprio tempo per denaro e capire come farlo in modo altamente levereggiato cioè se voi capite come vendere consulenza all'inizio o come vendere qualcosa a 1000 euro allora non dovete state attenti a quello che sto dicendo per favore non dovete fare tante azioni su una lista sul facebook sul cartaceo sui video eccetera per arrivare ad avere una cifra di soldi che possa essere reinvestita per creare un progetto più a lungo termine ok è chiaro il problema non so se è chiaro quello che sto dicendo perché se voi iniziate avendo la prospettiva troppo di lungo termine quello che succede è che ci impiegate troppo tempo per monetizzare il business muoiono per questa cosa cioè voi dovete finire di prendere informazioni americane produrle male e ascoltare un po' quel cazzo che volete capire voi ok una delle cose che dice Dan per esempio è che voi dovete vendere qualcosa ieri non potete aspettare così tanto facciamo l'esempio di JVZoo per esempio che cos'è sbagliato nell'approccio che hanno i lanciatori di JVZoo è che loro fanno un sacco di azioni e un sacco di casino chiaramente per vendere dei prodotti che costano poco quindi guadagnare relativamente poco quindi non essere mai in una situazione dove possono ovviamente incominciare un business un po' più serio o un software o un business fisico o un business da qualche parte quindi nel momento in cui voi volete monetizzare nel corto periodo dovete trovare un modo ci sono questi modi nei miei corsi ovviamente per non fare un casino della madonna e dover raccogliere un sacco di leads fare un sacco di video fare cartaceo fare il paccone fare il libro e poi andate a Roy forse tra due anni perché da qui a due anni voi siete semplicemente falliti quindi è abbastanza importante questa cosa cioè non non pensate è un errore che vedo spesso io guardo per esempio un'altra cosa è non evolversi mai quindi nel momento in cui voi avete e state monetizzando questo è un enorme errore guardavo ieri la situazione dei libretti in America da quando me ne sono andato voi non avete idea di quello che sta succedendo sono tutti che parlano male di tutti tutti che scammano tutti uno ha fatto un video dove ha una bottiglia di champagne e ha celebrato il fatto ma perché parlare da dentro una piscina ma che professionalità è questa è perché io parlo dalla piscina se non ti va non sentire se avessi una cravatta parlassi dalla sedia direi le stesse cose tesoro mio guadagno abbastanza da stare nella piscina se certi professionalità e fuffa vai da altri lead che te la vendono volentieri col sorriso sulle lab e comunque è molto professionale quindi io sinceramente mi sentirei molto meglio quindi c'è uno che ha tirato fuori una bottiglia di champagne e ha brindato al fatto che avessero bannato l'account di un altro tutti contro tutti eccetera eccetera ma sono tutti ancora che fanno il Kindle Publishing il corso sui libretti che va benissimo farlo all'inizio considero anzi un enorme salto a livello mentale e di income chi per esempio fa i libretti e poi fa un corso oppure vende della consulenza eccetera eccetera però il problema è che non ci si toglie mai da una nicchia che è fondamentalmente sbagliata come quella degli infoprodotti di JVSU ok quindi è importante monetizzare subito in ottica di breve termine così che la cosa meno è fare lavorare sul proprio profilo e proprie immagini se non riuscire a vendere e monetizzare su proprie consulenze allora dipende questa è una tecnica ti faccio un esempio Andrea io conosco dato questo consiglio alcune persone mi hanno ringraziato proprio personalmente gli ho detto ragazzi all'inizio se voi siete col culo per terra la cosa da fare è scambiare il vostro tempo i vostri servigi per soldi quindi alcune persone si sono messe per esempio a fare fiber quello che voi chiamate fever no? febbre fiber vuol dire qui 5 ok tenner vuol dire un deca per chi è in ascolto e non conosce l'inglese ok give me a tenner vuol dire vuol dire un deca un 5 non so come si dica un coso comunque fiber vuol dire quello va bene non è fever quello è febbre ok perfetto bravi scambiate il tempo fate dei lavori ci sono tantissime persone ok come me che ricercano persone o che gestiscano gli ads o che facciano i loghi o che facciano il sito o che facciano gli scrivano dei mail o che facciano il copy eccetera quindi scambiare un lavoro che però nel suo complesso ragazzi non ha richiesto un bordello dall'altra parte cioè vi segnate su fiber fiber vi indicizza subito vi entrano i primi 5 fate il logo poi fate un bundle da 20 e cominciate a costruire una solida base per poi poter cominciare un business magari più sul lungo termine non so se è chiaro se per esempio voi vi voleste posizionare invece come il consulente stra pagato che vende loghi eccetera questo ha bisogno di un ecosistema quello che insegna in mente Catti che voi potreste non avere la forza di sostenere ora per chi non mi conosce sta guardando questo live ripeto io non sono sceso giù con la piena quindi capisco di darvi anche delle informazioni che magari da altri lì di non sentite però mi dovete stare a sentire ragazzi che altrimenti non funziona Big ma quanto è pericoloso insistere sull'insultare e denigrare gli altri ma non devi insultare o denigrare nessuno sicuramente il fatto di posizionarsi per differenze e di evidenziare magari le falle della competizione non vuol dire insultare il problema è che quando tu lo fai le persone potrebbero pensare che insultino cioè alcune persone si sentono insulti cioè se tu rubi e io dico tu hai rubato non è un insulto però uno si può sentire insultare cioè tu hai parlato male di me sì però non è esattamente la stessa cosa di inventarsi diciamo che non devi mai sfociare ovviamente nella diffamazione perché purtroppo alcune persone questa del posizionamento per differenze è stato un enorme casino e non l'ho portato in Italia io ovviamente anche perché non è il posizionamento è parte chiaramente della strategia di marketing ma non lo insegno diciamo direttamente per tutta una serie di motivi lo insegno ovviamente come parte dei miei corsi il posizionamento per differenza purtroppo è stato male interpretato da moltissime persone cioè è stato insegnato per come deve essere per come giusto nessuno vi ha insegnato a parlare male o a insultare oppure a inventare storie false ok sulla concorrenza il problema succede anche a me ragazzi a me capita di spiegare un concetto molto fine che è lungo non so due pagine ciao titti le persone prendono una frase ma tu hai detto questo io sto facendo questo sì ragazzi ma c'era un contesto cioè non hai ascoltato tutto mi capita di persone che magari guardano i miei video poi mi spiegano ma tu hai detto x gli dico ma porco giuda 20 secondi dopo ho detto tutto il resto puoi per favore guardare tutto il video ovviamente risponde l'ufficio e non io però il fatto è questo quindi alcuni hanno capito non sto dicendo tu che posizionarsi ok il primo a portare il posizionamento in Italia è stato Marco Deveglia sicuramente è lui che è arrivato per primo giusto per chiarirsi ehi mi raccomando iscriviti al canale per attingere a tutte le informazioni più aggiornate ed efficaci su marketing business e profitto ma ripeto non sono stati commessi errori da parte di nessuno dei due nell'insegnamento del posizionamento per quello che può valere e ricordiamo che il posizionamento copiando semplicemente un ris e vomitando e leggendo e mangiando pane e un ris e quindi dicendo che quella è la Bibbia tu devi fare per forza quello senza capire quello che ci sta dietro non va bene ma lasciando perdere questa cosa qui per questo live alcuni hanno capito cioè ragazzi in Italia adesso ripeto non voglio rompere le uova nel paniere a nessuno perché me ne devo stare tranquillo e non mi devo far salire la pressione cioè è arrivata la voce che lo storytelling sia inventare la propria storia cioè purtroppo di fronte ad errori del genere che ripeto sono errori cioè è inutile stare lì a parlarne come affiliation dice ma la parola esiste ma non si dice affiliation ma ragazzi non è così c'è un motivo se tutti strivano dall'America si chiama affiliate manager e non affiliation manager perché non si dice cioè non c'è una discussione ok quindi se arrivate in Italia alla voce che ciao Amos come stai storytelling sia inventati una storia cioè cosa che fa la gente si inventa una cosa che non è vera ma non è quello lo storytelling come il posizionamento non è dire Big Luca non capisce un cazzo poniamo per esempio ogni esempio un esempio che faccio volentieri allora mettiamo che tu sia un marketer ok grande grande Mauro allora mettiamo che tu sia un marketer ok e chiaramente subisci nella tua testa in realtà non c'è la competizione di Big Luca in realtà ragazzi il mio livello è leggermente diverso ripeto il vantaggio che ho avuto io è che io venendo già avendo fatto i soldi in America mi sono calato da sopra mi sono posizionato come primo e come il marketer meglio posizionato e più pagato senza fare la gavetta ma perché la mia gavetta è stata fatta in America quindi non ho la competizione io sono l'unico membro adesso italiano del Titanium sicuramente uno dei più giovani al mondo sicuramente l'unico online marketer italiano sono diventato ricco nel mercato americano quindi non ho una competizione però poniamo il fatto che un marketer italiano gli dica no ma Big Luca è in piscina allora è un mio competitor ok perfetto quello che una persona potrebbe erroneamente fare e alcuni magari lo fanno ovviamente mi dicono che fanno i commentini eccetera fanno le chat eccetera per di tempo è dire eh ma Big Luca non capisce un cazzo oppure addirittura eh ma Big Luca dice che guadagna ma non ha i risultati scusa se io mi sono lanciato in Italia con i risultati tu non puoi andare a dar fastidio a questa cosa no è come dire Big Luca non ha una piscina ma invece ce l'ha cioè non deposiziona questo perché loro hanno capito loro e non sto pensando a nessuno in questo momento nel ragionamento generale parla male del competitor per posizionarti ma non è questo il posizionamento non è mai stato Orris quantomeno non lo insegna non bisogna essere allievi diretti di Orris per sapere basta leggere due cose ci sono un sacco di video su YouTube anche molto interessanti guardatevi The Risk Report per esempio cose che voi non conoscete no di All and Lower Risk e quindi uno potrebbe dire ah ma Big Luca non capisce niente questa cosa qui è un esempio è facilmente smentibile una delle cose che per esempio uccide il posizionamento è andare avanti a dire cose che non possano essere provate ok perché il posizionamento deve puntare sulla propria diversità in termini oggettivi cioè la diversità è oggettiva non è oggettivo per forza che serve e magari stai manipolando mentalmente il prospect per fargli credere che gli serva la tua diversità questo è un altro paio di maniche ma se io dico per esempio io sono l'unico online marketer che vive in una penthouse di Dubai non puoi andare contro questa cosa perché è oggettivo finché non ce n'è un altro che dimostra ciò ho vinto io non che sia importante ma ti sto facendo capire ok piuttosto che io al mio evento di Londra che è stato un record assoluto ho viaggiato con l'aereo privato tu non puoi dire ah Big Luca si è inventato di viaggiare con l'aereo privato alcuni degli attacchi che dicevo sono ridicoli perché devo deposizionarlo ok come puoi deposizionare una persona o dimostrando che quello che dice non è vero quindi io dico che faccio più di 100.000 dollari al mese e metto i video non metto i video ok non mettessi i video gli screenshot eccetera ovviamente una persona potrebbe dire no guarda Big Luca finché tu non lo dimostri noi non ti crediamo le persone non ragionano così quindi sarebbe infattibile anche perché in tutta una serie di cose tra virgolette le persone non cercano risultati ma se tu aggredisci me che continuo a mettere video e foto è solo un esempio è semplicemente ridicolo non è un deposizionamento quindi le persone hanno queste confusioni assolutamente il vero problema è che tutti vogliono fare qualcosa ma non capiscono c'è una sola soluzione che è studiare e un'altra cosa adesso è un annetto che faccio questi video italiani ragazzi non pensate di saperla lunga solo perché mi seguite tra virgolette da un anno un'altra cosa che voi dovete sentire le stesse cose da angolazioni diverse è la ripetizione molti di voi guardano Proctor anche lì non l'avete capito Proctor ripete le stesse cose da 50 anni Proctor rilegge lo stesso libro da 55 anni perché voi ogni volta capite fate un collegamento in più e ogni volta impregnate la vostra mente inconscia con queste informazioni non dovete sentire le cose una volta e poi dire l'ho capito ok e questo è l'altro punto dovete continuare in perterriti ad ascoltare materiale ascoltare corsi fare esperimenti fare il corso leggere il libro rileggere il libro riguardare il corso riguardare il corso riguardare il DVD riandare al mastermind eccetera io ci sono dei corsi di done non è uno scherzo ci saranno dei corsi che io ho guardato in versione digitale o il DVD cento volte riguardo per la cento unesima volta dico cazzo questa roba qua mi pareva di averla capita ma no anche perché come fate più esperienza siete in grado di appiccicare le informazioni che sentite a quello che sapete un po' come studiare una lingua tramite la grammatica non si può fare c'è un motivo se non imparate le lingue è che imparate la regola grammaticale ma non avete una sostanza su cui metterla quando invece voi sapete già parlare e leggete la regoletta dite ah cazzo sì è vero è come quando quella volta lì ho detto quello e potete fare una relazione altrimenti ragazzi non c'è scampo per voi se la gente cercasse i risultati sarebbero disoccupati proctor legge thinking da 58 anni tutti i giorni esatto Amos quindi questa è per rispondere alla domanda sul posizionamento cioè ci sono degli errori catastrofici non dovete insultare la concorrenza ovviamente se insultate la concorrenza potete essere querelati diffidati con una serie di problemi legali che meglio non avere eccetera eccetera quindi se voi date del brutto stronzo a qualcuno non va assolutamente bene è vero guerra psicologica ogni volta ci sono cose che erano sfuggite all'ascolto precedente e sarà così per anni è tanta pazienza quale business consigli di fare dopo essersi creato un'arenita di 10-20k al mese con il network adesso ti rispondo ragazzi io esco perché la piscina sarà anche 31 gradi però qua sono calati siamo 10 gradi sotto media Dubai quindi con il vostro assoluto permesso io mi asciugherei è pieno di puccellini scusate che il bradipo sta uscendo dalla piscina con la sua lentezza voi non lo sapete ma in realtà io sono velocissimo ok quindi occhio state buoni lì state buoni lì state buoni state buoni state buoni state buoni lì eccoci qua signori molto bene ciao super big look ciao anche a voi quindi è chiaro il discorso che vi ho fatto grande grande massimiliano allora guerra psicologica insegna anche ad attirare clienti per libri professionisti insegna solo la manipolazione sì certo allora il sistema di marketing è spiegato in online marketing per mentecatti se volete vi interessa questa cosa qui vi interessa sia come acquisire l'ecosistema sia poi come gestirli guerra psicologica è un corso sulla gestione dei clienti come parlare come vestirsi come fare i prezzi come rispondere ad alcune obiezioni come andare a cena con i clienti è una cosa molto interessante quindi è sulla gestione dei clienti che sono già stati acquisiti ovviamente come posizionarsi e manipolare anche per acquisirli non ci sono i facebook ads giusto per dirti però se vendi informazioni mezzo consulenza o se sei un libero professionista è esattamente il corso che fa per te cioè è quello sto vedendo londra per tre volte ci sono molte cose del mindset e psicologia che non avevo capito eh sì allora Federico rendita di 10-20k al mese con il network quando hai 10-20k al mese che ti entrano con il network io cercherei una cosa che ti possa far scalare fino a 200k al mese per esempio però il network è una di quelle se tu fai 20k al mese con il network io ti direi di arrivare a 100k al mese con il network questa è un'altra cosa comunque Bigda quando hai fatto l'evento i commenti negativi su youtube sono diminuiti ma Joelle quelli non controllo ma quelli non li fermi non fa niente ragazzi non ha un livello tale che posso veramente non leggo queste cose cioè ragazzi i commenti non si possono leggere ok quindi ti direi di arrivare a 100k al mese con il network va bene che è uno dei problemi che avete è che state facendo una cosa che funziona una cosa che puoi mamma mia è andato in giro il coso bellissimo quanto mi diverto una cosa che potete anche scalare ma vi mettete a fare altro e quindi trascurate uno stream che avete e quindi questa cosa non va bene a quali business saresti davvero interessato ad investire in futuro software non cominciate ragazzi a mandarmi le lettere gli email ma io ho un'opportunità non mi interessa ragazzi io sono molto occupato sto già facendo tante cose tante cose anche che non vedete in background quindi sono veramente occupato vi ringrazio per la sensibilità non mi interessa praticamente niente quindi sicuramente software è una cosa molto interessante come consigli di promuovere la mia attività dove facciamo siti web come posso applicare guerra tu hai comperato guerra Caterina giusto per penso ci siano veramente poche persone che fanno 100k al mese con il network donna quanto è arrivata donna glielo chiedi a donna sì ci sono 100k persone ci sono poche persone che fanno 100k al mese in qualunque in qualunque cosa assolutamente in qualunque cosa non è che ragazzi ve lo continuo a dire aprite le orecchie però 100.000 dollari al mese netti personalmente non li fa praticamente nessuno è veramente raro ok non 100.000 dollari di volume d'affari ma 100.000 dollari di dividendo di soldi neanche aziendali io parlo di personale va bene ci sono giorni che non riesco eh questo mi sto eh Andrea Marzulli benvenuto nel mio mondo anch'io ci sono dei giorni che non ce n'ho neanche per le palle dei giorni che mi fanno incazzare dei giorni che ho problemi e poi giorni bellissimi eccetera comunque i giorni diciamo bene e buoni superano quelli negativi anche bene vicino ai suoi clienti gli altri vendono e ti abbandonano sì sì non ti preoccupare Carlo è tutto a posto secondo te posso lanciare un prodotto su Amazon FBA con le Facebook Ads allora le Facebook Ads possono aiutare però nel caso di Amazon hai meno gioco secondo me sono meglio le Amazon Ads può aver senso iniziare un business di self publishing per avere cash flow in poco tempo da reinvestire in altro oppure conviene risparmiare per formarsi e partire già da altri business allora partire dal self publishing va bene anch'io sono partito dal self publishing con la comprensione che non è che tu possa fare una cosa in modo veloce così quick e poi reinvestire il self publishing io penso sia ancora la cosa più veloce sinceramente perlando però ti ci devi mettere sì va bene il green screen della Balaus ragazzo guardate qui c'è anche una finta banca mi hanno messo il green screen dell'HSBC assurdo sì arrivano gli audio tutte queste cose che stanno arrivando 100k al mese sono 1.2 milioni di anni scherziamo eh sì la mia agenzia sta aiutando aziende italiane a crescerlo non ho fatturato in pratica ciò per me politica noi rendiamo possibile gli diamo facendo crescere loro fatturato sì 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 l'altro giorno mi hanno mandato un'email sulla ho letto un'email insomma ho letto un messaggio capisco che ci siano persone che si spacciano per miei amici miei collaboratori alcuni anche miei insegnanti e non sono legato a nessuna persona non ho partnership e non ho insegnanti in Italia né chiunque vi dica a parte quelli di cui vedete le foto ma le persone di cui vedete le foto non se lo inventano e quindi chiunque millanti di insegnarmi le cose o di essere a stretto contatto con me è semplicemente un millantatore charlatano ragazzi io non mi lego a nessuno ho le mie cose posso ridere scherzare fare live con Tinder eccetera io ho le mie cose gli altri hanno le altre cose in un itos di collaborazione massima vedete addirittura non è venuto qui Mick proprio nella e vorrei anche dire che ho chiesto se potevo fare la foto ho detto se non ci vuoi essere capisco non l'ho detto a nessuno quando stava venendo qui perché rispetto la privacy di tutti gli altri che studiano da me non hanno piacere che si sappia perché c'hanno i loro cazzi non rivelerò mai il nome è tutto a posto non ci si può occupare di un obiettivo a breve allora se ti occupi di un obiettivo a breve termine devi non sputtanarti nel lungo termine cioè il corto termine e il lungo termine non sono in contrapposizione se tu fai per fare i soldi nel corto termine sbrigli il lungo termine non va bene se fai delle azioni che sono piccole ad alto level e già all'inizio vanno bene non c'è cosa consigli di cominciare Massimiliano devi studiare cioè se parti da solo senza conoscenza devi studiare e questa cosa è evidente a tutti per tutte le cioè se tu parti da zero a sciare prendi un istruttore giusto? tu dici ma io non so che pista fare se non so a sciare non te lo chiederesti mai Massimiliano prenderesti un corso il corso che è adatto a te è online marketing permette carte sì sì Valentina lo sappiamo lo sappiamo come targetizzare un professionista ad esempio dentisti beh se sai dove sono uno li targetizzi con il cartaccio però lo puoi fare anche sui social grazie Francesco per arrivare a 100k al mese con il network cosa consigli? portarlo là iniziare a cercare collaboratori in tutti i paesi ci puoi arrivare anche in un paese solo ma ovviamente devi avere una macchina che macina leeds e li converte in clienti e del prodotto e dell'opportunità io ho moltissimi studenti networkers ragazzi cioè se volete fare i numeri dovete usare la parte online assolutamente ma se al posto di vendere info prodotti vende orologi case macchine cambia qualcosa riguardo a cosa cambia? facendo una copertina per pubblicizzare il mio servizio pubblicazione di musica inizio per pubblicità facebook inizi capendo che cazzo stai facendo ti è chiaro i prezzi chi sono i tuoi clienti potenziali l'ecosistema che devi fare se facebook sicuramente ancora siamo in una fase deficitaria per facebook di cui nessuno parla non esiste una reale alternativa ad oggi questo lo dice addirittura dan kennedy quindi giusto per farvi capire morto un papa se ne farà un altro non me ne potrebbe fregare di meno però si inizio da facebook sto posto attorno a Mentecatti certo ovviamente si pigma tu nella pratica più brutale come ti organizzi per pianificare per raggiungere i tuoi target come combattere la procrastinazione allora Luca Mentecatti è davvero un gran corso grande lo so Malco lo so non è tranquillo non si vende fuffa però su questi lì si allora la procrastinazione ragazzi ce l'abbiamo tutti anch'io sto procrastinando per fare delle cose ma mi metto poi nelle situazioni di doverle fare alcuni esempi non ti posso fare per ora comunque bene da ridere da ridere certe cose da ridere è così è così chi vivrà vedrà chi vivrà vedrà chi vivrà vedrà e ti metti lì e ti forzi elimini le distrazioni lavori problema oggettivo prima di scalare con online nel network consiglio di creare un buon organico di leader con cui smazzare i lead che acquisisci ho avuto un happy problem con online troppe prime linee questo è un altro problema quindi devi voi networker te lo dico per esperienza ce l'avete da due parti cioè voi avete già la parte di formare è come se fossero degli executive che formano da online ce l'avete subito appena entrano i primi leads quindi devi avere due sistemi uno di acquisizione clienti potenziali che converte in clienti prodotto e opportunità di business in più devi anche avere un sistema replicabile che dai a chi entra perché altrimenti è un problema si potrebbero acquisire le azioni prima della quotazione Nasdaq sì ho sentito io conosco in realtà le azioni io conosco cioè uno le ho apprese anni fa così non lo so non è il mio campo Stefano quindi non ti rispondo quanti soldi servono iniziare a realizzare promuovere un videocorso dipende a che livello e dipende di cose qualche migliaio di euro che università hai fatto l'università di Nottingham studi cinesi contemporanei classe 2014 Nottingham UK all'inizio come si gestiscono i clienti che vogliono informazioni gratis per email a cui risposta si trova nella guida che ho creato non si risolve io ho delle domande anche live di persone che mi chiedono cose che avrò ripetuto circa 600 volte o anche di più no c'è gente che non capisce gente che non capisce apposta va bene così quindi rispondi dipende dal tuo posizionamento te la puoi tirare di più o di meno ma comunque ok volevo chiederti per ottenere la residenza a Dubai quanto tempo bisogna risiedere per ottenerla no devi stare qua una settimana vieni qua firmi per la società te ne vai ti fanno la visa vieni qua ti fanno gli esami del sangue per essere sicuro che non ti droghi non hai l'epatite e quelle cose lì e poi vieni qua risiedi devi stare qua devi entrare ciao Greta non devi stare via da Dubai per più di sei mesi controllare le entrate delle varie pagine online su Fubi controllare le entrate cosa ti riferisce vabbè continuiamo a parlare di quello che stavo parlando prima io non devo più rispondere alle vostre domande perché mi confondete mi fate stancare prima mal di testa allora imparare a vendere ragazzi una delle cose della vendita per esempio è che in qualche modo l'Italia si è promosso un po' questo fatto qui che non ci sono le obiezioni ma anche lì bisogna capire poi come viene spiegato il concetto non è vero che non ci sono le obiezioni di obiezioni ce ne sono anche tante quindi per esempio creare uno script per i venditori è una cosa chiave perché non ripeto anche se sei posizionato anche se hai fatto marketing educativo le persone hanno tutte una serie di obiezioni e puoi fare a domanda risposta nel senso avere degli script delle frasi fatte invece avere delle frasi fatte io trovo sia molto utile noi viviamo per frasi fatte per esempio le cose che voi dite che dico io altro non sono che frasi fatte non per niente non le pensiamo partirei con un e-commerce high ticket si può fare dipende cosa intende per e-commerce high ticket sta parola high ticket guarda io ho maledetto il giorno che l'ho fatta conoscere e purtroppo quando gli italiani pronunciano parole in inglese si sganciano dal significato e pronunciano solo la parola senza capire cosa stanno facendo affiliate marketing di info prodotti su online marketing promuovere prodotti in inglese sul mercato italiano può funzionare consigli in paesi nativi di lingua inglese no può funzionare perché comunque io ho fatto un sacco di pubblicità persone come ovens e quindi lo puoi fare quanto deve essere il tuo reddito minimo per andare a vivere in america allora deve essere devi essere in grado di spostare 100.000 dollari su un'azienda americana e prendi la visa e2 e ti serve un avvocato che ti faccia il processo di application concretamente devi aprire un'azienda in america aprire un conto bancario quando ancora non sei residente e spostarti 100.000 dollari su quel conto lì quindi se hai 100.000 dollari va bene mi sta aprendo un nuovo mondo ragazzi il sistema spiegato in online marketing per mente catti che è il corso il mio cavallo di battaglia si applica ciao Marco cioè quel corso lì vi insegna a come creare un sistema a come vendere i prodotti cioè del vostro business ok non è un sistema preconfezionato vi insegna come ragionare strategicamente per poi andare ad aumentare i vostri soldi per poi creare un ecosistema per il vostro business quindi qualunque business voi avete quel corso va bene anche questa cosa qua io la ripeto da un anno non so se voi non ci credete è così ragazzi voglio dire l'han preso sono più di mille i mentecati quando eri mercato facevi video identici in inglese su facebook giornalieri ma sono ancora nel mercato americano mica nel passato no uso youtube uso youtube quindi in america facebook è già una cosa infattibile se voi vedete vedete che adesso stanno collaborando tutti gli americani allora mi avete chiesto mi è arrivata anche questa domanda su whatsapp in qualche modo di alcuni personaggi americani quindi mi è stato chiesto vista la tua vicinanza ovviamente a queste persone dici un attimo cosa ne pensi e sono arrivati diversi messaggi allora stanno collaborando per un motivo molto semplice nessuno di loro può star dietro alle spese di facebook no se voi vedete Dean Graziosi collabora con Robbins che collabora con Branson Frank Kern collabora con Cardone perché nessuno di loro né anche Cardone è in grado di reggere la botta di spesa di facebook da solo e per cui a parte che collaborare a certi livelli va sempre bene due anni fa circa mi hanno assunto come venditore in un'azienda nota in Italia del caffè mi hanno dato uno script molto efficace lo script era serve chiaramente fino a un certo punto ma è chiaro cosa ne pensi in generale della vendita di persona beh la più efficace è la vendita di persona mi dice lo so l'ho visto ragazzi stiamo intervenendo non vi preoccupate se c'è gente che dice di vendere corsi molti innanzitutto sono truffatori alcuni altri sono dei cerebrolesi quindi tanto le persone serie che hanno successo ragazzi non comprano i corsi pirata quindi io non me ne sto neanche più preoccupando tanto il mio income non viene intaccato di mezzo millimetro anzi devo dire le persone il target che io ho dei studenti sono persone serie responsabili che hanno di solito già un business che vogliono studiare quindi non me ne frega assolutamente niente ok fate quello che volete posso testimoniare che Mentecatti mi ha fatto capire che business fare e come farlo quindi vada Dio anche se non sia già un business anzi forse è meglio così non si fanno cazzate sì sì ma ovviamente c'è persona seria io dico sempre di studiare ancora prima però molti hanno già magari le loro attività quando mi incontrano anch'io vorrei info su fiscalità internazionale allora scrivete a Big Luca Office e vi danno il link per comprare il corso fiscalità internazionale per online marketers è un corso stupendo ottenuto da me è un tax planner di più di 30 anni di esperienza ma sì Nicola ma è una roba da dipensanti cioè ma di che cazzo stiamo parlando come spacciare le figurine ciao ciao Giulio Carlo Magno ah per il workshop di informazioni ragazzi se volete venire qua a Dubai a casa mia essere nel mio soggiorno magari farvi anche un bagno in piscina ci vediamo con un gruppo di studenti seri ci sarà un workshop sulle informazioni quindi su come vendere informazioni come impostare tutto il business se siete a zero va bene se avete un business di consulenza volete capire come fare più soldi con la consulenza come fare un corso o se avete il corso come strutturare i pacchetti come fare i prezzi e fare mastermind sui problemi che avete e avere me che vi do le risposte il 2-3 agosto c'è un mastermind qua un workshop di due giorni a Dubai sulle informazioni grande Giancarlo la fiscalità internazionale è un corso che deve uscire se sì di cosa tratterai è già uscito Federico Milani no infatti Michele non esiste non c'è nessuno che fa soldi comprando corsi non c'è quindi una mentalezza cosa intendi quando dici che i potenziali clienti non devono essere troppo in target non l'ho mai detto quello che stai dicendo tu è non restringere troppo il target su Facebook vedi che hai mal interpretato quindi su Facebook si riescono a vendere anche i prodotti lo 100k e ragazzi scusate a me la Bentley ha fatto retargeting su Facebook per una vita ero andato in un concessionario mi hanno inviato peraltro da Bentley UK recentemente un opuscolo un giornale eccetera e ti fanno retargeting non per fartela comprare ma per farti riandare in concessionario eccetera poi uno compra una Bentley da 300.000 ma ovviamente si può le penthouse le cose sono sponsorizzate su Facebook ragazzi è possibile chiedere di inserire altri paesi del Golf Arabia Saudita e Oman in fiscalità si può fare ragazzi si può fare tutto però se volete una consulenza personalizzata è un'altra cosa io capisco la vostra necessità di dire io mi compro il corso e buonanotte però non funziona così per la parte fiscale poi non vi dico ok si parla di come andare a vivere quindi tutta la storia che hai detto prima passare l'azienda no non si parla di come andare a vivere negli USA cosa c'entra quello è un cambio di residenza negli USA dovevi venire se avevi questa curiosità al workshop di fiscalità internazionale potevi fare questa domanda ragazzi è che ci può essere tutto che cacchio è fra tre anni si dice che non ci sarà più cosa ne pensi anche meno per me facebook è gli ultimi 1-2 anni ma non me ne frega assolutamente niente di Elon Musk non penso niente come suggerisci di attirare un pubblico alto spendente per la consulenza si iscrive a biglucaoffice q.gmail.com quindi intendo dire saltata la domanda un network di prodotti benessere qui necessaria prima registrazione del cliente al sito non posso rincarire direttamente sul prodotto finale per far acquistare subito e perde un sacco di gente e geniati dopo facebook arriverà un'altra roba geniati parla con l'azienda poi ragazzi se l'azienda vi rende impossibile fare le cose online cioè vi permette anche delle decisioni però molte aziende in realtà voi credete che casino che c'è qui venga quanto hai alzato il costo della consulenza 2.500 euro all'ora ma tra un po' la alzo a 3.000 viste le richieste penso che siamo partiti da 1.000 e siamo adesso quasi a 3.000 perché sono occupato mi si prospettano dei mesi ragazzi di fuoco per tutta una serie di ragioni quindi oltre a quella cifra non si può vendere più direttamente online ma serve farlo di persona oltre a quale cifra guarda al telefono puoi vendere cose c'è gente che compra case per corrispondenza ragazzi c'è gente che ha comprato qua a Dubai le case galleggianti da milioni di euro senza averle mai viste si è passata un'ambulanza o la polizia ragazzi imparirà dove si farà advertising Instagram ma magari non esiste più neanche Instagram io prima cadono queste piattaforme qui dal demonio guarda non le sopporto io Facebook non lo sopporto ragazzi Facebook ah cioè non è io non lo sopporta nessuno grande Gianfeca Mentecato ragazzi diventate Mentecati è la cosa giusta da fare è inevitabile è inevitabile in francese inevitabile ok quindi ci sono sono seguito da una web agency voraccio ma ho difficoltà ad impormi perché sono degli antichi rispetto al mio sapere eh guarda Massimo è un problema mi sa che non potrei vincervi devi licenziare sì sì vogliono fare le cose come dicono loro nel momento in cui ragazzi i vostri collaboratori non vi ascoltano vanno licenziati chi gestisce gli azza me fa quello che dico io chi gestisce le vendite per me fa quello che dico io se non vuoi fare quello che dice Big Luca vai a lavorare da un'altra parte cosa ne pensi di corsi online dedicati ai terapisti delle terapie naturali funzionano molto bene tutto ciò che non convenzionale che esce dal lato accademico ha un grande mercato signori grande mercato ma io guarda gli enti gli enti faccio la tua vita qui eccoci qui nella mente you are your own problem you are the solution Bob Rocker esatto esatto ragazzi pensate alle soluzioni non pensate non è facile non è facile capisco capisco perfettamente pensate alle soluzioni se no la piscina privata non la prenderete quanti di voi vogliono avere una piscina privata ragazzi eh altre domande si mamma mia stussezza comunque siamo sotto media ragazzi fa freddo Dubai vanno scelte agenzie che sanno cosa fare non i netti che dicono secondo me quanti mentecati hai venduto a tutti gli italiani che vogliono farvi nessuna eh ne ho ancora tanti da vendere ne ho ancora tanti da vendere devo vendere molte più copie ragazzi ciao ciao a tutti ragazzi piano piano cioè piano piano neanche tanto piano si stanno tutti prendendo il corso ragazzi poi adesso sto filmando delle altre cose ci sono tutte delle pianificazioni le cose vi verranno annunciate a tempo debito fiscalità o anche per il business su amazon basterebbe il corso fiscalità o anche una consulenza e io partirei dal corso e poi farei una consulenza c'è allora il fatto è questo io nei live provo ad aiutarvi ragazzi il fatto è che il business è una cosa dannatamente seria come il marketing se avete bisogno di qualcosa bisogna entrare in consulenza strategica e vedere il vostro business non posso farlo live a torso nudo cioè scusa la domanda quale banca suggerisci solo commissioni per esempio Massimiliano questa domanda non ha senso compiuto cioè te lo dico per il tuo bene non è una domanda è una domanda priva di sé cosa vuol dire solo commissioni cioè che ti interessa solo avere commissioni basse tu mi hai lanciato l'incipit io ci sono dovuto arrivare ma tu lo sai come mi brucia la cabeza a questo punto le banche italiane fanno cagare ragazzi cioè non è è una roba risaputa suggerisci di attendare un pubblico alto spendente sul sito quindi intendo dire acquisire e far arrivare a te non tramite squadra ma proprio con i contenuti che pubblichi sul tuo sito perché cavolo devi fare così scusa perché magari loro non ce l'hanno delle palle di leggere il sito il sito cosa lo vuoi indicizzare con il seo e vuoi affidarti solo a quello devi capire come fare un ecosistema e devi capire cosa fare Dario tu non sei mentecato si vede quando facevi i libretti siatevano già le agenzie di scrittura si it's so hard to get old without a cause I don't want to perish like a fedding horse mamma mia non siamo preoccupati it's deep come si dice da me in Sicilia piano piano si inchicucionco piano piano si riempie la cesta si che ne pensi della banca online porca puttana c'è una mosca bastanza della banca online N26 va molto bene per il transactional banking non ci metterei su lira di Cristo però va bene per il transactional banking ce l'ho anch'io a parte che è vuota ho su esattamente la bellezza ma diventi un euro su quella banca lì l'ho usata per un po' però sono meglio mi sono passato tipo uno stipendio l'N26 subito è andata in allarme e mi mandava le email cosa sono questi soldi come fai a far crescere il canale da zero a mille subs in forte target facendo contenuti in forte target con cosa per esempio con quello che vendi perché bisogna fare il target con quello che si vende io non sto scherzando mi dovreste pagare per ogni volta che ripeto queste robe qua ancora dopo anni un giorno magari me ne entrò sul mio pianeta come lavorare nel proprio business online mentre si fanno altri lavori doppio tab sera lavori nei momenti morti lavoravo in pausa quando gli altri mangiano il panino tu mangi il panino chiedi di restare in ufficio le prime volte non mi lasciavano ovviamente lavoravo in un'agenzia investigativa quindi c'erano i dati sensibili poi ovviamente quando si fidavano così lasciavano su non dovevo scendere vabbè tu rimani qui e io con il mio computer lavoravo facevo i libretti cari miei altre domande intelligenti con duelle N26 bloccano i pagamenti in entrata senza nemmeno avvisarti in customer service ma guarda a me è successo una volta e infatti poi non l'ho più usato ho spostato a parte vabbè gli stipendi dove lì obiettivamente magari però ascolta mi ero spostato tipo 10-15-20 mila euro in un mese dalla big look oltretutto la mia vabbè che loro non possono saperlo effettivamente però avevo rispostato la traccia guai poco tipo 2000 euro una roba che mi serviva per un pagamento e non erano arrivati erano ritornati indietro è giusto giustificare il prezzo del corso online palagorandolo ai prezzi presenti offline dipende cosa stai facendo credi nella saggezza popolare inglese un raduno di arleiste che cazzo sta succedendo ma quante moto grande le arle una volta sparito facebook cosa cambierà un ciuffolo di niente cambierà che staremo meglio odio facebook detesto facebook l'odio è una perdita di tempo assoluta mia stanchezza ragazzi io ho lavorato ma lo sapete oggi cosa ho fatto oggi ho preparato un'operazione di tipo clandestino io sto per condurre un'operazione clandestina ragazzi di cui non vi posso parlare non so se notate l'ansia nei miei occhi adesso voi adesso saprò sono duecento eh vabbè ma lo vedrete si riesce a fare network marketing o altro mentre si fa economia e management all'università ma perché devi fare economia e management all'università big ma tu segui qualche sport o hai hobby non ne parli mai ho molti hobby mangiare uno di questi fare palestra per poter mangiare di più secondo lingue straniere krav maga soldi business e altre cose strane guardate che bella che è Dubai scusate non me ancora vantate guardate che roba guardate il cielo guardate che roba vedete si abito qui evitate di fare domande a casacce a vostro resort check vedete vedete il trecento e me ne vado via nel vento torniamo dentro veramente assurdo ragazzi bisogna vedere bene anche tanto frio ancora non riesco a controllare l'aria condizionale non vedo cammelle comunque no non ci sono non ci sono cammelle ragazzi c'è un lusso ragazzi non so voi da me voi non lo sapete boom allora dai cinque minuti si adesso mi stanno scrivendo tutti su film perché mi arrivano le notifiche della pagina ah cosa studiato ci serve almeno il piano yes ciao bigo una sera usciamo io te e claudia delle donne mamma mia mia cugina sì altre domande ragazzi intelligenti sempre biga le 18 fai l'aperitivo quasi mai qualcuno d'età nessuno ha fatto se è un esempio per tanti grande io io col vostro permesso andrei a farmi una doccia calda perché ho freddo allora perfetto 8 shares dove mi avranno condiviso vabbè ne vedo solo due belli quelli che seguono la pagina ragazzi e non vogliono farsi vedere siete dei miti io vi adoro io vivo delle situazioni tra studenti occulti soci di altri che non l'hanno detto al socio mi chiedono un socio mi ha chiesto siccome io sono socio di quello ma quello non lo sa che io studio da te mi dici se per favore c'è il mio socio tipo incidenti nel club privé quando entra la moglie con l'altro amante il marito è lì con l'escort cioè ragazzi è un problema stasera l'uomo il corso guerra psicologica è un corso fiore all'occhiello di big luca che ti insegna come diventare un consulente tanto pagato sia che tu venda informazioni sia che tu sia un libero professionista e fai lavori per i clienti come si fa a far soldi è lotteria non mi comodo per il primo partito la domanda è quale banca suggerisce che qui in Italia le banche senza dare servizi sono un continuo a prendere commissioni specie se arriva a pagamento massimiliano se hai questo problema non sei in target cioè che cazzo se ne frega delle commissioni io pago uno sfacelo di commissioni cioè non lo so non ho idea ti cerca una banca con zero commissioni se avete il problema dell'euro del bonifico cioè è una roba incredibile veramente ma su Mentecati le prime lezioni vuoi dire che qualcuno spera che il sistema sarà uguale su di un'altra piattaforma no ma tu confondi la parte tecnica Luca con la strategia imparerai la parte tecnica di un'altra piattaforma ci metterai 5 secondi non è che vivo in un paesino UK con il mio ragazzo inglese insegnante di yoga qui estremamente in voga lo so ho di recente creato il sito come potremmo differenziarci come hai fatto a creare il sito senza sapere come differenziarti cosa hai messo nel sito Roberto Maria va da là grande 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 stai lucrando in questo periodo per caso il bene era un mio profilo per non far vedere i commenti i like sulla tua pagina non vedo perché tu non dovresti far vedere i commenti i like sulla mia pagina ragazzi se voi avete problemi a seguirmi non seguitemi andate via non vedo veramente a volte è proprio una cosa che recentemente ho discusso con alcune persone adesso può non essere il tuo caso ragazzi se avete più di 18 anni dovete anche assumervi le vostre responsabilità non lo so se l'ho bannato noi banniamo 20, 30, 40, 50 100 persone al giorno dalla pagina perché scrivono commenti beoti oppure presunti beoti un'altra cosa che se scrivete ragazzi vi consiglio di limitare il sarcasmo perché ovviamente il mio ufficio io magari allora di persona mi ricordo di qua si è venuto in consulenza cioè per dire fa un commento amos so che non lo sta scherzando però magari il mio ufficio non se ne accorge vi banna o meno di 18 e vabbè ma se sei precoce se mi segue perché non dovresti far vedere il like scusami c'è che problema c'è perché non dovrei fare economie management perché se vuoi fare tanti soldi far l'imprenditore non la vedo una cosa utile se vuoi lavorare per qualcuno un altro discorso per la strategia cosa mi consiglio di guardare mentecatti Luca Tagliani Luca Tagliani mentecatti devi devi guardare 200 volte mentecatti o costa uguale so cosa ti sto dicendo guarda l'academy guarda guerra ok quindi se avete più di 18 anni ve lo dico perché a volte mi arrivano questi cioè voglio dire ma io non voglio far sapere ragazzi c'è solo da vantarsi io mi vergognerei a seguire altra gente sinceramente parlando dobbiamo fare dei paragoni cioè prendete anche in mano un po' la vostra vita ragazzi cioè perché se no non va bene come cosa consiglio poi mamma mia cosa stiamo facendo che roba porno torno a lavorare cioè io vorrei prendere te ma sono al verde eh moad puoi imparare da tutti i miei per il motivo per cui produco video gratuiti cioè migliaia e migliaia di ore di ascolto tra il canale inglese e il canale italiano ragazzi da sette anni e tutto il tempo e la voglia di informarmi guardando in marcia una ninchia profittevole tu riguardo a quale ninchia mi consigli di iniziare a formarmi per poi alimentare un'infobina duratura scalabile ti consiglio di imparare prima l'online marketing prima non potete ragazzi arrivare al punto di vendere qualcosa se non avete capito cosa state facendo guardate che non funziona cioè adesso però è un annetto che ve la dico sta cosa dovresti anche aver visto che più o meno quello che dico si è avverato ok tutto per la precisione no non entrate in contestazione ragazzi con me davvero cioè la vostra opinione cioè voi prendete la mia di opinione che funziona meglio no dovete prima studiare capire che cacchio state facendo non sono incazzato Fabio no no io sono normale questa è la mia espressione normale te lo dico perché a volte me lo chiedo ma sei arrabbiato no 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 sto benissimo ma sei triste no sono proprio tranquillo quindi per vendere ultra high ticket online oltre alla vendita al telefono consigli di iscrivergli i prezzi 15 all'anno minimo Marco io non so cosa vendi non so chi sei non so che prezzi stai facendo non so come sei messo non me la sento di dirti sì no targetizzare un pubblico dai 15 a 20 anni fa comodo per risparmiare sull'engagement no perché se poi non comprano non te ne fai niente tu devi targetizzare i clienti cioè engagement è una parola beffarda al servizio della verità peraltro inglese quindi persone engagement si vuol dire persone che hanno interagito hanno cliccato e hanno smandruppato il tuo contenuto le persone che devono vedere i tuoi contenuti devono essere clienti potenziali potenzialmente in target con quello che quel video vende la semplicità di big look ma c'è un motivo se ci sono determinati tipo di situazioni che voi non conoscete è perché io so io la gente rompe i coglioni le pressioni cerca di psicanalizzati ad minchiam eh lo so eh lo so eh lo so eh lo so io so io so signori dura è dura l'avventura signori belli che sono i miei live ho già raggiunto 10.000 persone cioè più della metà di quelli che io ho in pagina ci sono risultati ragazzi che voglio dire beh di solito uno può sognarseli ma non si avverano comunque 9.128 persone reached beh ragazzi sapete che hanno avuto il coraggio di dire che la mia pagina è poca riccia è assurdo le opinioni della gente guarda che va bene signori vi perdono vi assolvo eh andate a fare quello che stavate facendo prima vi immagino piegati sulle vostre scrivanie a lavorare a produrre contenuto e a venderlo è vero pigliate i corsi fate quello che volete e scommetto che molti di voi stanno già pensando dove andare in vacanza per riposarsi del duro lavoro non è quella roba lì ragazzi non è quella roba lì io per esempio non andrò in vacanza l'ho già fatta è stato un inferno sono scappato dalle Maldive ho speso una caterba di soldi che spero mi verranno rimborsati da voi ti prendete i corsi quindi magari fatemi qualche plin plin in più ma assurda la vacanza ma c'è delle cose lo Shangri-La delle Maldive ma può essere di scarsa qualità cioè ragazzi però svegliamoci e se qualcuno dello Shangri-La guarda vada alle Maldive non è conforme a quella roba lì non è conforme a quella roba lì ho fatto le foto quindi facciamo se il target fosse un target non risparma come già compare a te a un corso ai ticket Luisa dopo un'ora che parlo non rispondo troppo stanco mi provo a fare gli altri un figlio e tutti quelli che hanno ingaggiato non è la cazzo Amos fai una lookalike persone che hanno interagito la salvi e punti su quella senza escludere o includere altro il target diventa questo senza mettere altri interessi ah quando mettete le lookalike ragazzi poi non dovete mettere altre cose cioè la lookalike è l'intero target non dovete poi definire l'età o la lingua all'interno la lingua no la lingua è un'altra cosa della lookalike di solito lo potete però di solito la lookalike è sufficiente non ve lo dico perché magari o della custom audience anche non avete capito e allora ve lo spiego tecnicamente tecnicamente quando sei libero tecnicamente allora ciao dal 5 all'11 viene qui un mio amico poi dovrei di essere libero o anche in questi giorni boom troppo busy con piani segreti eccetera minchietta minchietta vivetela così boom dovevi andare eh lo so eh lo so la big in effetti è una domanda più da consulenza e si ragazzi lo dico per voi così non spendete non sprecate tempo facciamo la consulenza chiedi a roberto maria vada là se ne vale la pena di fare una consulenza voi non ascoltate me non ascoltate me tutte cazzate tutte cazzate tutto umillantatore è tutta una scusa è tutta casa finta la gru che vedete è dietro la mia casa è finta l'ho messa io pagata io comprata io io ho problemi con le lal madonna ogni volta che sento questo nome audience perché non me le crei assurdo ogni tanto guarda che è successo anche a me l'altro giorno l'altro giorno stavo ciapinando con i facebook anche io sto per sprecare qualche mille euro inutilmente non mi popolava la custom e non mi popolava la custom audience dei buyers che vuol dire compratori in italiano io odio proprio sto film mi rendo conto che a volte sono imbrato nell'usarlo grazie mille sì sì così semplice fai una custom audience di persone che hanno interagito o con la pagina o con specifici post se tu possa mettere su un po' puoi farlo popola poi vai su facebook target selezioni lista custom selezioni quello basta quello è il tuo target mi levo così boom signori andate via ragazzi andate a lavorare state qui ascoltare me signori cavezza suon il cervello accendiamolo qualche volta non usatelo solo per fare quel giochetto lì come le angurie sapete la metafora del cocomero ve l'ho già spiegata lo sapete il problema del cocomero dai quanti di voi così ve la spiego e poi possiamo andare questa è mia soggetta a copyright quindi se la copiate ok quanti vogliono sapere la metafora del cocomero l'avrò già fatta sì cocomero vuol dire anguria da me si chiama anguria però mi piace di più chiamarlo cocomero perché non lo usavo mai come nome ho modificato la mia identità adesso ho roi del 406% grande amos grande e non solo ce l'hai ma me lo dimostri con le foto quindi amos è una persona intelligente spiega 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 è pesante questa non so se siete così cioè tra le quattro mura domestiche magari parlarne più magari ci imbalanziamo vabbè ve lo dico lo stesso tanto se ci imbalanziamo fa niente allora allora ragazzi questa metafora spiega l'imbecillità e l'arroganza umana questa è la premessa allora quando voi andate nei supermercati italiani ok in S.Lunga o Shan dipende insomma non c'entra se non è la marca del supermercato c'è sempre d'estate ovviamente l'inverno non c'è ma d'estate c'è quella cassa enorme con i cocomeri belli zuccherini eccetera d'estate si mangia bene eccetera allora voi vedete un sacco di persone voi potete mettervi al reparto delle banane ok e osservare la cassa piena di cocomeri osserverete un fenomeno che vi spiego si avvicinano le persone o si chinano dentro la cassa oppure prendono il cocomero in mano o lo mettono sugli altri cocomeri e cominciano a bussare sul cocomero e tendono l'orecchio a un certo punto soddisfatti dal suono comprano o non comprano un cocomero ora la mia domanda è questa voi siete convinti che tutti loro sappiano che suono debba fare il cocomero no loro non capiscono un cazzo di cosa stanno facendo si credono esperti credono di sapere che suono debba fare il cocomero e addirittura fanno la diagnosi sul cocomero ora ragazzi voi gestirete persone del genere questa questa è pesante ah questo live è registrato il primo che mi ciula la metafora del cocomero non sto scherzando gli faccio caso perché è troppo bello poi l'ho notato per primo io al mondo ho inventato io questa cosa nessuno l'ha mai detto no ma vi rendete conto vi rendete conto del problema gente che non sa che suono dovrebbe fare e sta lì a vedere che suono fa vi è capitato rispondete ma io perché vi dico queste cose ma voi siete ma che gusto ci provo ma no io guadagno poco in realtà per quello che mi insegno ma poco ma io mi sento ma basta ma è ora di finirla avete capito la metafora del cocomero vi rendete conto del casino quante entrate bisogna avere per vivere a Dubai ho già risposto guardate l'altro live di riferimento se suona vuoto vedendo che è simile con la loro testa si ne hai visti parecchi rendetevi conto e lo fate anche voi non mentite ok non avete la minima idea di che suono dovrebbe fare e se la sciura pina ve l'ha detto non lo sa neanche lei ma che cos'è se suona vuoto il cocomero è vuoto la tua testa è vuota ok quindi basta questo è un paradigma lo volevo inserire a pagamento nelle lezioni ma lo dico gratis e comunque ve lo vendo devo andare ragazzi arrivederci ciao